Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 dei migliori aspirapolvere senza fili. Vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link dei prodotti e le migliori offerte del momento e adesso passiamo al video. Quindi cominciamo con l'aspirapolvere Pro Scenic che è un aspirapolvere senza fili versatile che offre sia aspirazione che lavaggio dei pavimenti. Con una potenza di aspirazione molto interessante e un serbatoio dell'acqua grande è in grado di affrontare efficacemente polvere, detriti e persino sporco ostinato. Una delle caratteristiche principali di questo prodotto è l'autonomia della batteria che può durare fino a 50 minuti consentendo di pulire una vasta area senza dover ricaricare frequentemente. L'aspirapolvere è dotato di quattro diverse spazzole, ognuna progettata per una funzione specifica come il pavimento, i tappetti, le tende e la rimozione dei pelli degli animali domestici. Questa versatilità lo rende adatto a molteplici superfici e situazioni di pulizia. L'opzione di lavaggio a pavimenti è una caratteristica aggiuntiva che lo distingue consentendo di passare dal processo di aspirazione al lavaggio con facilità, offrendo una pulizia più completa dei pavimenti. Poi troviamo l'aspirapolvere senza fili Roventa, che è una scelta potente e versatile particolarmente adatto per le esigenze delle case con animali domestici. Con la tecnologia Flex offre una pulizia agevole e completa permettendo di raggiungere angoli difficili e spazi stretti con facilità. Il kit Animal Care incluso aggiunge valore a questo prodotto contribuendo a rimuovere efficacemente pelli di animali e detriti da varie superfici. La scopa elettrica senza fili è leggera e maneggevole rendendo la pulizia confortevole e senza sforzo. Con un'autonomia della batteria di 45 minuti offre un'ampia finestra di tempo per pulire diverse arree senza dover preoccuparsi di una ricarica frequente. Inoltre le luci led integrate migliorano la visibilità durante la pulizia rendendo più semplice individuare polvere e detriti specialmente in arree poco illuminate. L'aspirapolvere senza sacco elimina la necessità di cambiare i sacchetti semplificando la manutenzione e un apparecchio altamente flessibile che può passare facilmente dal pavimento ai tappetti e ad altre superfici. Poi per concludere ovviamente abbiamo il Dyson l'aspirapolvere senza fili Absolute Plus V10 che rappresenta un salto nell'innovazione nel campo delle pulizie domestiche. Con la sua tecnologia avanzata e design moderno offre una pulizia potente e flessibile senza la necessità di cavi o sacchetti. La potenza di aspirazione di Dyson è notevole in grado di affrontare diversi tipi di detriti e polvere compresi i peli di animali domestici e le patterie le più fini. La sua batteria ricaricabile offre un'esperienza senza fili permettendo di pulire facilmente da una stanza all'altra senza preoccuparsi della durata della carica. Con diverse modalità di aspirazione è possibile personalizzare l'aspirazione in base al tipo di superficie e all'intensità di pulizia richiesta. Inoltre può essere rapidamente convertito in un dispositivo a mano per affrontare piccoli disordini o pulire a luoghi difficili da raggiungere. Il sistema di filtrazione avanzato aiuta a catturare particelle ultrafini e allergeni contribuendo a mantenere un ambiente domestico più pulito. Ecco grazie per aver seguito questo video spero che ti sia stato utile. Non esitare a mettere un like, un commento e ad iscriverti al canale è sempre un piacere. Ti ricordo anche che ho messo i link dei prodotti e le migliori offerte nella descrizione. Puoi vedere tutto ciò e su questa nota ti dico a presto per un nuovo video.